Che cosa vuol dire star bene psicologicamente? Vuol dire capire che i modelli psicologi imposti hanno fatto il loro tempo. Vuol dire che il collage delle teorie presupposte non tiene più, che occorre fare un passo indietro per riconoscere questi ideali imposti e poter procedere al restauro, proprio per arrivare a far sì che sia un moto pulsionale. Vuol dire che è giunto il tempo che ciascuno adopere la propria testa, il proprio modo di pensare, la propria storia, mettendola al servizio della propria energia di moto per avere un proprio spazio di soddisfazione. Vuol dire che grazie a Freud, a Lacan, a Contri e altri che hanno lavorato e stanno lavorando attorno a queste questioni, anche qui in laboratorio a Torino abbiamo capito che siamo in grado di sdoganare un proprio patrimonio, che è il patrimonio di ciascuno, è un tesoro. E investirlo nella storia trascorsa per costruire un oggi, per ritrovare la forza di riconoscere il proprio percorso e impegnarmi a correggerlo per modificarlo nel proprio modo di pensare di vivere giornaliero.